ciao a tutti ciao a tutte e bentornati sul nostro canale e benvenuti ad un nuovo video vuoi salutare? ciao ci sono anch'io sono qua in regia oggi dietro le quinte oggi siamo tornati con un nuovo video di spacchettamento di uovo di pasqua quest'oggi apriremo l'uovo di pasqua che abbiamo acquistato da aldi edizione 2023 è il secondo video che facciamo di questa serie l'anno prossimo probabilmente ne faremo molti di più e andremo a caccia anche di uova di pasqua vegani quindi restate sintonizzati sul nostro canale intanto vi ricordo iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti fate mi piace a questo video sulla fiducia così gli algoritmi ci aiuteranno a far crescere il canale consigliate il nostro canale ai vostri amici parenti e tutte le persone a cui possono piacere i nostri contenuti e bando alle ciance andiamo subito ad aprire l'uovo di pasqua eccolo qua eccolo qua allora vi dico subito una cosa importante costa un euro in più rispetto a quello che abbiamo aperto la settimana scorsa che avevamo acquistato da lidl di questo uovo di pasqua invece mi piace molto la scelta della colorazione dell'incatto perché come ricorderete sicuramente quelli della lidl sono fucsia e azzurro quindi diciamo abbastanza tradizionalisti invece questo uovo che è costato 5 euro e 99 a questa carta fantasiosa sui toni del beige del rosa del giallo dell'azzurro insomma resta decisamente neutra e quindi si può regalare tranquillamente a chiunque senza distinzione di sesso di nessun tipo un'altra cosa che vi voglio dire a proposito di questo uovo è che appunto il prezzo 5 euro e 99 mentre quello della lidl vi ricordo che era 4 euro e 69 anche se io durante tutto il video continuato a dire 4 euro e 67 comunque due centesimi di differenza di certo non fanno una problematica dicevo appunto questo invece ci è costato 5 euro e 99 il peso è sempre 400 grammi e l'uovo è sempre al latte andiamo subito a vedere che cosa c'è in questo uovo e anche ad assaggiare il cioccolato oggi ci faremo aiutare anche da renzo perché lo faremo assaggiare anche a noi la volta scorsa ero da solo e quindi togliamo via la carta tiriamo via qui addirittura c'è un nastrino che si può slacciare comodamente senza dover usare le forbici o un cutter e cosa facciamo questa volta vediamo prima la sorpresa assaggiamo prima il cioccolato come sempre assaggiamo prima il cioccolato la golosità prima di tutto allora vi dico subito che la sorpresa anche in questo caso non si trova nel cestino ma si troverà sicuramente all'interno dell'uomo ma adesso andiamo ad assaggiare il cioccolato vuoi un pezzettino allora vieni subito da assaggiare insieme a me questo per renzo questo per me come non mi ricordo com'era l'altro che io non sono in grado di fare un paragone identici né più né meno la mettiamo via l'uovo per un attimo la sorpresa di questo uovo di pasqua si trova all'interno di questo contenitore che riconoscerete tutti perché se ne trovano di simili anche nelle uova kinder e andiamo subito ad aprire vedere che cosa c'è dentro oddio una sorpresa da montare va bene però ci sono le istruzioni è un aeroplanino rosso vi faccio vedere i pezzi adesso è un aeroplanino rosso è smontato adesso facciamo una cosa lo monto fuori camera e poi vi faccio vedere la sorpresa allora la sorpresa è stata montata vediamo se riesco stavolta a farvela vedere per bene e devo dire la verità oggi non vedrete che indi che gioca con questo aeroplanino perché non non è molto sicuro ecco i pezzi si stanno stanno assieme ma ci sono le ruote che si muovono l'elica che gira vediamo se riesco l'elica gira e ruote girano è completamente fatto in plastica è davvero piccolissimo sarà siano 5 centimetri di grandezza che dire allora devo dire che le istruzioni di montaggio sono abbastanza semplici i pezzi si assemblano veramente in pochi minuti ed è sicuramente una cosa divertente da fare con i propri figli soprattutto perché mi sembra di capire che l'uovo è fatto veramente per un target piuttosto giovane ecco diciamo così l'aeroplanino sembra anche disponibile in due diverse colorazioni o rosso e verde o giallo e blu che dire non so se qui c'è scritto da che età in poi si può giocare con questo ma io di certo non lo darei dice dai tre anni in su però io sinceramente non mi fiderei molto a lasciare dei bambini con giochino del genere incustoditi e soprattutto oggi come vi dicevo non farò giocare candy con l'aeroplanino perché a lei sarebbe piaciuto anzi e devo dire la verità si è divertita molto di più perché mi è caduto mi è caduto questo foglietto e lei si è lanciata all'attacco e si è divertita di più con questo sicuramente ecco gliel'ho lanciato e questo che questo che sentite e lei che impazzisce magari adesso vi farò vedere un video di lei che gioca con quel foglietto ciao E che dire, abbiamo sentito l'opinione di Renzo per quanto riguarda il cioccolato. Sì, e poi di l'ascosto mi hanno dato un altro pezzo grande. Dai, ma non va bene. Ricapitoliamo tutto. L'uovo è costato 5,99 euro, quindi un euro in più rispetto a quello del Lidl. Il peso è 400 grammi, identico. Il cioccolato è al latte, identico, molto buono. La sorpresa. Devo dire che la sorpresa dell'uovo Lidl mi ha colpito di più, mi è piaciuta di più. E non solo perché è stata gradita da Candy, ma perché comunque la ritengo ottima per il rapporto qualità-prezzo dell'acquisto dell'uovo. Mentre questo aeroplanino, per carità, magari divertente, genitori e figli montarlo assieme, zio e nipote, nonna e nipotino, non so. Però la sorpresa è davvero deludente e anche un po' pericolosa perché i pezzi si agganciano perfettamente assieme, ma ho l'impressione che un bambino molto piccolo lo smonterebbe in pochi secondi e potrebbe essere pericoloso, soprattutto per quelli più giovani oppure se i pezzi vengono smarriti per casa e poi magari li trova il cane o il gatto. Ecco, direi che comunque quest'uovo a livello di sapore è promosso. Dal punto di vista della presentazione estetica mi è piaciuto molto di più l'uovo di Aldi. Come potete vedere i colori di questa carta sono davvero molto belli e anche neutri, che possono andare bene per ogni tipo di persone. E che dire, siamo arrivati alla fine di questo video. Se il video vi è piaciuto fate mi piace. Se avete da scrivere dei commenti scrivetecelo sotto. Fateci sapere se avete acquistato le uova da Aldi o avete preferito quelli di Lidl oppure se ne avete trovati degli altri a un prezzo molto più vantaggioso e magari anche con delle sorprese più divertenti. Vi ricordo che l'anno prossimo sicuramente andremo a caccia di uova vegane. E niente, vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao, ciao!